La Corri dei Borghi venerdì sera farà la sua seconda tappa, nello specifico si va a Cerete. Sì esatto, venerdì ci sarà la Quaterpasso Esopero il Paese, 17esimo a memoria al Paolo Zambetti, appunto che fa parte del circuito Corri dei Borghi 2012. Ci può dire qualcosa del tracciato? Ma per quanto riguarda il tracciato, chiaramente cambia in base anche alla tipologia degli atleti. Quindi avremo una gara baby run, una gara non competitiva e una gara competitiva FIDAL sia maschile che femminile. E il tracciato chiaramente è misurato per quanto riguarda le varie categorie. Avremo di una corsa su strada. Sì esatto, è una corsa su strada che viene svolta appunto nelle vie del nostro paese, attraverso il nostro borlo antico. Quanti partecipanti vi aspettate? Ma se riusciamo a bissare così il grande successo della prima tappa della Corri dei Borghi 2012 avvenuto con la Corri in centro, credo di aspettarmi circa 400 partecipanti. Dioli, ci vuole ricordare il programma? Ore 18.15 ritrovo iscrizione e ritiro pettorali. Ore 19.30 partenza baby run. Ore 19.50 partenza gara non competitiva categoria ragazzi adolescenti. Ore 20.15 partenza gara non competitiva categoria liberi. Ore 21.30 partenza gara competitiva FIDAL, allievi, allievi e femminili. Ore 21.30 partenza gara competitiva FIDAL. A seguire premiazioni.